A lezioni di tasse e divertimento è iniziato nella scuola Pisa Canepo Aereo di Milano il progetto I commercialisti nelle scuole ti spiego le tasse, ideato per le classi quarta e quinta elementare dall'Associazione Italiana Dottori Commercialisti e dall'Ordine di Milano con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia. L'obiettivo è far capire il concetto di legalità fiscale ai cittadini di domani per combattere l'evasione con un approccio culturale diverso. I bambini sono stati coinvolti attivamente, hanno scritto che tasse conoscevano e abbinato un servizio pubblico essenziale. Uno ha disegnato un salvadanaio e tutti a turno lo hanno bersagliato con le loro tasse appalottolate. È stata molto istruttiva che se non si pagano le tasse domani l'ambiente peggiorerà. Abbiamo imparato che pagare le tasse è importante. Mi è piaciuta tantissimo. Che cosa avete imparato? Abbiamo imparato che anche noi bambini paghiamo le tasse e ci sono vari tipi di tasse, che sono tre. Gli insegnanti Lodovico Gaslini, presidente di AEDC Milano e Roberta Zorloni, segretario dell'Ordine di Milano, hanno anche spiegato con un esempio cosa significa evasione fiscale. È stato un piacere avere da questi bambini un ritorno di partecipazione così attiva. Era esattamente quello che speravamo di ottenere, cioè di avere uno strumento che potesse coinvolgere questi bambini, questi ragazzi nell'apprendere il valore sociale delle tasse. Abbiamo avuto la sensazione che col gioco e col divertimento l'abbiano apprezzato e hanno collaborato e ci hanno anche trasmesso qualcosa in più di nuovo che serve sempre anche a noi. Il progetto I commercialisti nelle scuole ti spiego le tasse va avanti con 35 scuole di Milano che hanno chiesto di partecipare e 150 commercialisti che hanno aderito e fatto un corso di formazione. Sono coinvolti anche altre città dove le sedi dell'Ordine e dell'Associazione diffondono il progetto sul territorio.